Negli occhi dei cremonesi c'è ancora la partita stellare vinta all'Ozzini con il Catanzaro. Altri sognano già la Serie A e in alcuni regna il pragmatismo, complice una rivale di tutto rispetto come il Venezia. Tra le vie del centro il tifo grigio-rosso è diviso in vista della finale play-off. Allora, in questo momento la città, la squadra, è sicuramente carica vista la bella prestazione. Dopo, per non tirare delle gufate, non mi esprimo sulla prestazione, però la squadra è sicuramente motivata. Il Venezia è un'ottima squadra anche lei, sicuramente la classifica dà un piccolo vantaggio in più ai Lagunari, però le partite finali sono sempre un po' aperte a qualsiasi risultato. Speriamo che la fortuna ci assista. La vedo molto bene, la partita che ha fatto contro il Catanzaro è stata veramente quella del ritorno stellare. Se giocano così sarà durissima anche per il Venezia, speriamo che si riesca a riportare la squadra in Serie A. Andrà allo stadio, andrà al Penzo? Penso di riuscire ad andare allo stadio, speriamo. Finale cremonese-Venezia, chi vince Vainale, ci crede? Sì, io credo che vinca la cremonese, se lo merita assolutamente e quindi confido e auguro la cremonese di vincere e di andare in Serie A. Il Venezia invece come lo vede? Il Venezia mi spaventa perché è una squadra sicuramente forte e quindi comunque temo che possa rovinare la festa della cremonese. Mi auguro di no. Non manca la scaramanzia e l'orgoglio grigiorosso. Io dico che la cremonese secondo me, ho visto un buon risultato sabato con il Catanzaro e spero tanto che Stroppa porta a casa anche un buon risultato positivo con il Venezia perché la squadra c'è e loro sono forti. Vuole farci vedere anche la felpa che indossa con orgoglio qua a Cremona? Ecco, questa è quella felpa della cremonese che è la riduce della Serie B. Sono fiducioso e penso che possiamo portare a casa la vittoria. Ti sono piaciute le scelte di Stroppa del doppio fantasista nell'ultima gara? Assolutamente sì. No, no, ha azzeccato tutto ed è per quello che siamo riusciti a vincere con un buon risultato anche. Una cosa è certa, è già partita la cazza al biglietto per Lozzini. È un po' impegnativa, però penso che se usa la grinta dell'altro giorno forse ce la possiamo fare. Sto andando al ranch a vedere se riesco a corporarle per me e mio figlio. Quindi sarà una giornata in famiglia per la partita? Assolutamente sì.